Amici video giocatori, giocatori cinefili, incalliti, ecco il mio gioco preferito in realtà virtuale, pistol whip, solo che qui sono in una modalità diversa, quindi non sparo, gli altri mi sparano, io devo schivare le pallottole e colpirli quando mi sono vicini col calcio della pistola, quindi divertimento, riflessi, allenamento, ocio. Grazie. Oh aiuto, qua devo schivare tutte le pallottole. Matrix e John Wick. Un'altra parte. Quindi un allenamento alle gambe incredibile, allenamento riflessi, una figata, dovete venire a provarlo. Pistol Whip 2089. Arrivederci.